Allora, sempre con Maurizio Chiovato siamo a Comodo, il cipelago dell'Indonesiano, stiamo vedendo questi animali straordinari che sono i varani, eccoli qua, che visto così da distante, tranquillo, sembra anche quasi simpatico, in realtà sono ben pericolosi e anche estremamente aggressivi. Estremamente aggressivi, sì, senza altro sì, soprattutto ricordiamoci che il varano quando attacca la vittima e la sua preda, a lui gli basta ferirla, perché sa benissimo che con il morso che gli ha fatto, la ferita che gli ha fatto, dopo 8 giorni circa anche un bue di un 200-300 kg muore. Ecco, siccome siamo in diretta stavolta, che belle immagini stupende, complimenti al signore in studio, grazie del messaggio. Vediamo adesso, ne arriva un altro, vi ho visto più di un'occasione dove presentate questi bei viaggi, ma li organizzate a livello individuale o di gruppo, Filippo da Mestre? No, siamo un gruppo e ben volentieri, chiama qui e si mette in contatto, sì sì sì, senz'altro, ringrazio Filippo di questo. Perfetto, prossimo viaggio è giusto per dire? A Gorontalo, Gorontalo che è sempre in Indonesia e il diciannonesimo viaggio in Indonesia. Caspita! Sì, ma l'Indonesia però è grandissima, ricordiamoci, per cui abbiamo la possibilità di vedere tante cose diverse e qui andiamo a vedere gli squali balena, li ho già fatti, per realtà ritorno a vederli e qui facciamo otto giorni di giro nella foresta con degli animali molto particolari, le scimmie più piccole del mondo, andiamo a vedere, e i vulcani, cioè i parchi naturali che sono intorno e poi facciamo il giro subacqueo dove andiamo a vedere gli squali balena, dove andiamo a vedere altre cose, abbiamo delle pareti grandiose di gorgonie, poi la macro, ricordiamoci, a chi piace la macro l'Indonesia la deve fare, poi abbiamo anche le mante, abbiamo anche gli squali, c'è di tutto per quello. Quindi ci sarà da che vedere. Torniamo sul nostro documentario che non ci perdiamo pezzi per strada, poi faremo vedere i nostri telespettatori anche il prossimo viaggio che è ancora in via di organizzazione, di ultimazione praticamente, come organizzazione. Ecco lì, qui è il momento di grande relax, relax tra un'immersione e l'altra. Ecco qui vediamo, sono i pescatori del villaggio vicino, in questo caso cosa fanno? Lo puliscono in acqua, viene eviscerato e poi lo mettono sotto sale e questo praticamente c'è una parte che finisce al mercato e una parte invece che viene usato nel villaggio. E su queste barche qui, questo ad esempio è essiccato perché viene sia essiccato che messo sotto sale in conformità. Loro pescano qualsiasi tipo di pesce, proprio non fanno decisione. Ecco lì, quello è il sale che viene rotto, è un sale molto grezzo e viene praticamente il pesce infarinato col sale, proprio spalmato bene. Sapolito il pesce. Ma i pesci tropicali, diciamo che i pesci più buoni sono i nostri dell'Adriatico. Il pesce tropicale è abbastanza, non ha grande gusto, è molto simile. Per dire, mangiare un barracudo, mangiare una cernia non è che si riesce a distinguere la differenza, è sempre diciamo condito bene e via di seguito. Le preparazioni fanno la differenza. Ecco, questo è un villaggio di pescatori. Ha una piccola curiosità, quando magari parliamo così tra di noi, noi sappiamo che per tagliare un vetro usiamo la punta di diamante e via di seguito. Invece loro per tagliare il vetro, per farsi la maschera, usano la forbice. C'è una cosa, vetro normale, non cristallo, parliamo non di grosso spessore, in acqua salata. Con la forbice tagliano e sagomano il vetro. La forbice si rovina, niente da dire, per carità, perché taglia una cosa, però si riesce senza spezzare il vetro. E loro si fanno la maschera dalla semplice camera d'aria di camion, fanno praticamente la sagomatura e si fanno queste maschere azionali. Questa ragazza qui ha questa crema, ha una maschera, in questo caso perché per loro avere la carnagione chiara è importantissimo. Un po' come in Birmania. Esatto, un po' come in Birmania, anche perché purtroppo in questi villaggi poveri, qui riciclano tutto, qui vediamo ad esempio come una vecchia barca viene smontata tutta e le tavole ancora buone vengono usate per fare la barca nuova. Qui purtroppo, dicevo prima, in paesi poveri, in villaggi poveri, purtroppo le ragazze vengono anche vendute. e quindi tenendole più di carnagione chiara aumenta il prezzo e aumenta il tornaconto per la famiglia che le vende. Qui vediamo l'ancora di questa barchetta. Ma speriamo di sì, speriamo di sì, ma comunque c'è anche questo lato negativo. Ah, un'altra cosa, loro esportano un tipo di pesce particolarissimo, che adesso lo vedremo, qui fanno delle specie di polpette, sempre a base di verdura e pesce. Le oloturie, le oloturie noi le chiamiamo, qui stanno essiccando i pesci, proprio, e dopo vengono, il pesce secco va al mercato locale indonesiano, mentre l'oloturia, eccola qui, viene prima lessata. Cos'è? L'oloturia, il cetriolo di mare, ha anche un nome un po' più volgare che non dico, ecco come lo chiamiamo, ecco, viene fatta bollire, la rendono morbida perché ha una pelle tipo cuoio, per me è ripugnante, non mi sono sentito proprio, bene, la esportano a Singapore, vanno marti per questa oloturia, proprio viene fatta, non lo so, non ho voluto chiedere perché proprio loro la fanno bollita e poi la mettono, finiscono la cottura ai ferri e la rendono morbida poi, poi la mettono sotto sale, la tengono morbida e la esportano a Singapore, hanno un grande mercato e viene a Singapore. Non l'hai assaggiata? No, questa non l'ho assaggiata, non me la sono sentita. Un'altra cosa bellissima, pur essendo un villaggio povero via di seguito, i bambini vanno a scuola in divisa, finisce la scuola, via le scarpe e via i vestiti e girano, ma a scuola vanno in divisa e sono tutti lì. E' molto sentito proprio il discorso di com'è l'educazione scolastica che viene data, cioè proprio è curata, veramente ogni villaggio è a sé stante perché praticamente un villaggio è quasi uno stato a sé, proprio non c'è collegamenti con la terraferma, oramai loro fanno la vita e restano tutta la vita su quest'isola. Qui siamo praticamente nel parco di Comodo e hanno il problema dei varani che ci girano intorno. Il varano però ha abbastanza paura dell'uomo, solo se per caso ci si avvicina perché lui non si è spostato, lui attacca per difesa, questo è. Perché fanno quel gesto con le mani, un saluto? Un sistema di saluto, sì, un sistema di saluto che fanno con l'indice medio. Ma anche lì i bambini e i ragazzi sono connessi? No, no. Ecco qui ad esempio guardiamo, noi pensiamo guardandola così una pinna di uno squalo, no è una manta, è una manta che ha alzato l'ala e l'ha portata fuori dall'acqua. Qui proprio ci girava attorno, fino in superficie, ci girava proprio attorno alla barca, vediamo anche che non nuota come uno squalo, perché vedendo la pinna uno pensa che possa essere uno squalo, invece era proprio una manta. E le mante qui sono, diciamo le vediamo anche spesso, comunque è uno scenario per sa che è unico. E qui passiamo adesso alla parte subacquea, qui adesso abbiamo l'accompagnatore che ci porta, abbiamo dato un po' più di spazio alla parte terrestre perché i barani... Ah, prima viene la spiegazione. Sì, ogni immersione spiegano dove si fa, quello che si può vedere, la corrente da che parte ci porta, il giro che si fa, è proprio una spiegazione molto accurata. Ecco, poi ci parte, questa è la barchetta che ci porta al punto di immersione e siamo pronti a partire. Qui c'è stato un fatto, ad esempio, quando si è così pronti e via di seguito, la maschera, Maurizio ha fatto un piccolo errore, ha appoggiato la maschera sulle pinne del compagno di Francesco che gli stava davanti. E gli era fatta volare a 30 metri di distanza e è rimasto senza maschera, però il problema suo è che era maschera ottica e dopo ha proseguito le immersioni con una maschera normale e a quel punto aveva molti problemi per vedere gli strumenti e per vedere anche lontano, ecco. Deve stare molto attenti, molto cauti. Deve stare attenti, sì, beh, quella è una disattenzione che però purtroppo è costata cara perché una maschera ottica anche poi costa economicamente, quindi comunque questo è Maurizio che sta... Poi soprattutto non penso che ci siano negozi dove si possono fare... No, 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 assolutamente, proprio... Ma non è anche il problema con la camera iperbarica? No, meglio non pensarci, noi abbiamo l'assicurazione da anche, dovrebbe venirci a prendere in qualsiasi parte del mondo, però no. Ah, un particolare, guardiamo il fondale, è tutto rotto. Perché è rotto? Perché le forti correnti staccano il corallo dal fondo e lo fanno rotolare e a questo punto diventa questa massa di ghiaia incolta. Qui un particolare che abbiamo un pesce che vive in sembiosi con un gamberetto muratore. Il gamberetto muratore lo vediamo sotto. Perché muratore? Perché costruisce la tana per tutti e due dentro la sabbia e lui i pezzetti di conchiglie li usa per rintuzzare, per mettere più solido il soffitto e non far cadere la sabbia all'interno. Cosa che invece prosegue sempre perché se noi guardiamo lui prosegue sempre a portare fuori i vari rimasugli di sabbia, poi adesso manda via anche il pesce perché gli dà fastidio davanti all'uscita e lui prosegue praticamente a tenere sempre pulito e in caso di pericolo il pesce si rintane immediatamente nel cunicolo scavato dal gamberetto ed eccolo qui. E qui vediamo che sta prendendo un pezzetto di conchiglia e lo mette nel bordo proprio per bloccare la caduta della sabbia. E queste sono cose veramente ecco qui come sta facendo, cioè sceglie proprio, infatti lo chiamano un gamberetto muratore proprio per quello. Sembra che abbia le zampette. Sì, proprio. E costruisce, fa tutto questo cunicolo mettendo tutti i pezzetti più grossi impedendo la sabbia di cadere. Che dimensioni ha questo gamberetto? Due centimetri. Ma piccolissimo? Piccolo, piccolo. Tre centimetri, ecco il pesce è già più grande ma lui è molto piccolo. Qui usi il faretto? Sì, sì. Qui siamo, ma era abbastanza lontano però qui per non disturbarli perché è difficile che stia così fermo. Mi sono messo in un punto, infatti ho zoomato, però avevo una buona visibilità e mi consentiva di zoomare senza perdere la qualità dell'immagine. Ecco, quella è l'acqua limpida? Limpida, limpida, limpida. Limpida è anche molto piacevole. C'è una muta da 3 mm è indispensabile perché ci si striscia, ecco, solo per proteggersi dagli strisci. Qui vediamo un'altra forma di protezione. questi pesci non trovano di meglio che vivere dentro agli aculei di un riccio. Questo è un riccio che ha gli aculei molto lunghi e i pesci vivono internamente agli aculei tranquilli da essere fuori. Questo invece sembra una rinomurena. È una murena particolarina, non l'ho mai vista. Però non ha i denti, la murena è tutto diverso completamente, è coloratissima, arriva a 50 cm di lunghezza, non è mai grande e viene sempre fuori così. Qui vediamo Francesco che fa una dimostrazione, stando fermi, come i gamberetti vicino all'attinia vanno a curiosare nelle sue mani per vedere se c'è qualcosa, se c'è qualche parassita da togliergli via di seguito e vi ti vediamo. Ma adesso sono bellissimi. Eccoli qua. Ma voi come fate a sapere che lì ci sono questi gamberetti? Ebbè, allora sappiamo l'habitat del gamberetto e l'attinia dove vive di solito, quindi cerchiamo proprio quel tipo di attinia dove andarlo a vedere. E questi gamberetti qua sono splendidi, veramente belli. Comunque ne abbiamo di tantissimi tipi di gamberetti. Poi abbiamo, li vediamo più avanti comunque. E questi qua sono quelli, parliamo sempre di una grandezza di 2 cm, non tanto di più. No, no, perché sono trasparenti, sono piccolissimi, riusci a individuarli, bisogna avere anche esperienza. Questo è un bellissimo pesce. Un pesce, esattamente. Questo pesce qui è molto particolare. Cos'ha di particolare? Che nuota pochissimo. Lui cammina, si muove. Madre. Ha delle zampette sotto. E ha poi le pinne laterali molto ampie. E questo dovuto al fatto che direi che è quasi imparentato con i pesci volanti. Però l'abbiamo sempre visto fermo sul fondo. Quindi non so se questa sia solo la sua morfologia. Qui vediamo una murena. Guardate i colori che prende la murena con l'habitat dove vive. Cioè mimetizzata perfettamente. Perfettamente mimetizzata. Qui partiamo una cosa. Queste sono immersioni anche notturne. Ah, questa è notturna. È notturna, sì. Ho fatto parecchie immersioni perché le notturne qui sono una cosa fantasmagorica. Guardiamo questo pesce qua. Parliamo che è un centimetro e mezzo, è questo pesce piccolissimo. È uno pesce scatola, ma piccolissimo. Questo è bellissimo. Ecco, qui invece abbiamo dei gamberetti ancora Arlecchino. No, di questi dei gamberetti. Gamberetti Arlecchino. Questi qua. Ma ripeto, quello che è la macrofotografia, le riprese macro dell'Indonesia sono uniche. Perché proprio vedere quello che Madre Natura ha fatto con questi piccoli organismi è incredibile. Chi non è appassionato di fotografie può andare giù. C'è una lente speciale per i subacqui, una doppia lente. Questa è una ballerina spagnola. Una doppia lente che è praticamente una lente che avrà circa 8 cm di diametro con un'altra seconda lente graduata maggiormente sotto. Per cui i più piccoli organismi li si guarda sulla seconda lente e gli altri sulla prima. In maniera tale che anche questi piccolissimi pesci si possono seguire, anche quelli che non sono appassionati di fotografia, con questo strumento possono vedere questi particolari. La guida di solito ha una pila puntatrice laser. Quindi indica, perché sono proprio, guardate, un altro pesce scatola. Un altro pesce scatola. Piccolissimo. E parliamo sempre che è un centimetro, un centimetro e mezzo. Ma proprio piccolo? Sì, 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 sono piccoli, piccoli, piccoli. Pensavo a essere, insomma, quei dieci centimetri. No, 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 è piccolissimo proprio. E qui, poi vediamo quello che ho di microrganismi, di plankton, che mi passa davanti perché sono attirati dai fari. E quindi la luce li richiama e vengono attorno. I nudi branchi, le lumachine del mare, ce ne sono di, mi pare sia, 57 specie. Il nudi branco, questa lumaca, ha questi colori sgargianti per avvisare l'eventuale aggressore che è tossico. Ah, quindi è velenoso, insomma. Per, sì, tossicità per gli animali, per i pesci. Per cui quando un pesce lo cerca di ingerire, lo ributta subito fuori perché resta quasi orticato del muco che ha protettivo. Nudi branchi ne abbiamo di statici, come in questo caso qui che si muove pochissimo, oppure questi qua coloratissimi che si muovono. La parte posteriore, vediamo il peduncolo che ha, perché una volta i nudi branchi avevano la conchiglia. E adesso dalla conchiglia l'hanno abbandonata perché hanno la protezione naturale, che non vengono più mangiati per questa propria protezione che hanno di muco sulla loro pelle. E il ciuffetto finale è dove era attaccata la conchiglia una volta. E quello è l'ultimo ricordo proprio della conchiglia, hanno il ciuffetto di coda. Quindi escono da questa conchiglia sostanzialmente. No, no, non ce l'hanno più. Non ce l'hanno più. Non ce l'hanno più. Allora, con queste altre bellissime immagini interrompiamo nuovamente con la pubblicità, sono sempre pochi secondi, quindi restate con noi.